Mo' mamma si è messo in mente che mi devo mettere a dieta adesso, da subito, cucina arriva a Natale più leggero Ma è una fissazione, prima mi ha tolta la Nutella, le patatine fritte, la porchetta e manca le cagionette mi fa Ma io non posso dimagrire perché ho le ossa grosse